Mancavano pochi minuti alle 4 di questa mattina quando nella segheria Camillo De Rossi in via nazionale ad Andalo-Valtellino, lungo la vecchia statale 38, è divampato un incendio che ha distrutto una macchina dell'impianto principale. Ad accorgersi delle fiamme un vicino che ha immediatamente attivato la macchina dei soccorsi mentre i proprietari dell'azienda, idrante alla mano, tentavano di contenere il rogo. A dare manforte alle operazioni di spegnimento l'arrivo immediato dei vigili del fuoco del distaccamento di Morbegno che sono riusciti a domare le fiamme prima che queste potessero estendersi a legname. All'origine dell'incendio, secondo i primi accertamenti dei pompieri, un cortocircuito all'impianto elettrico, ingenti danni coperti da assicurazione, peraltro ancora in fase di quantificazione da parte del titolare dell'azienda, una delle più importanti del settore in Valtellina.